L'odio questo freddo pungente! Non ci credo che hai chiamato Urik! Hai chiamato un gormita del fuoco in mezzo a un lago ghiacciato solo per scaldarti! Ikor ha ragione Riff, Goro, che quasi ha negato! E io non posso credere che siamo nel regno del ghiaccio! Dovremmo stare nella torre degli elementi al caldo! Dovevamo per forza venire da tuo padre! Se mio padre dice di fare una cosa, devi farla! Ed eccoci qua, a casa! Questa è casa tua! Che lavoro fanno i tuoi esattamente? Mio padre è il re! Una vera e propria reggia! Potrebbero almeno accendere i riscaldamenti! Padre! Principe Ikor, hai portato un gormiano del fuoco nel castello! Lo sai che il fuoco non è il benvenuto nel regno del ghiaccio! Wow! Il padre di Ikor è addirittura più rigido di lui! Padre, io... Ikor! Devi smetterla di andare alla ricerca della torre! Non la troverai mai! Ma... Nessuno può! È soltanto una leggenda! E ora che tu resti qui, per imparare che cosa fa un vero re! Cose importanti! Ma l'abbiamo trovata! Abbiamo già trovato la torre! Sciocchezze! È vero, vostra altezza! Io sono la custode della torre! E sto insegnando loro cose importanti! Come combattere contro i Darkan! Adesso basta! Non puoi continuare a giocare ai Guardiani tutto il giorno! Metti via quel ridicolo costume immediatamente! Eh? Tu sei il futuro sovrano del regno del ghiaccio! Ma... Eh? Ah? Tenente Sorcos! Che cosa fate qui? Vostra altezza! Delle strane creature si avvicinano al castello! Zottobo! Sono i Darkan e hanno un frammento! Padre! Ce ne occupiamo noi! Conosciamo bene queste creature! Non c'è tempo per giochi e sciocchezze! Ma... Radunate le Guardie Reali! Partiamo subito! Principe Ikor, tu resterai qui con i tuoi amici e l'ardente! Farete quel che dico io! Sì, padre! E questo sarebbe il tuo esercito, Re Gormiano! Sono le Guardie Reali del Regno del Ghiaccio, creatura! Hanno sventato ogni tipo di attacco sulla nostra terra per migliaia di anni! Beh! Ogni cosa ha una sua fine! E la vostra e quella dei Guardiani avverrà oggi! Cosa? Gloomy! Niente potrà più fermarci adesso! Ha 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 ha! E basta di ghiaccio! Lascia andare mio padre! Obbedisci, Darkan! Abbiamo vinto in passato e ovviamente vinceremo anche questa volta! Ma adesso abbiamo anche il potere del vostro prezioso Elestar, Gormita! Ho bisogno di tutta la mia luce per liberare il re! Qualcuno mi aiuti! Papà! Oh, sembra che tu abbia perso il tuo guardiano, Atinos! La tua energia è debole! Non hai ancora vinto, Darkan! Luce, dissolvi il buio! Luce, dissolvi il buio! Ikor, devi concentrarti! Aiuta Akiros! No! Gredda ha il potere di un frammento del ghiaccio! È inutile! Ti stai per arrendere! È questo ciò che insegni a loro! Ikor? Riff, richiama Auric! Coraggio! Ma ho tanto freddo! Chiamare un Gormita del Fuoco nel Regno del Ghiaccio lo proibisco! Ikor, di a questo ardente di fare come dico io! No, padre! Non lo farò! Ha imparato che per vincere i Darkan dobbiamo lavorare insieme! Ghiaccio, roccia, vento e fuoco! Achilos! Ritirati! Prendete i soldati! Io proteggo Riff! Bene! Soldatini! Siamo qui! Riff, su, coraggio! Gormiti! Potenza degli elementi! Energia del Fuoco! Combatti! Uriq! Uriq! Esplosione Ardente! Esplosione Ardente! Tornerò al Castello! Tornerò al Castello! No! No! Io penso di essermi sbagliato! Ho visto che cosa avete fatto tu e i tuoi amici! Anche il Ragazzo del Fuoco! Ma... Hai ancora molto tempo prima di salire al trono! Al momento i regni hanno bisogno che tutti voi continuiate ad essere la custode... e i guardiani! Principe Ikor, prima di partire per riportare i frammenti alla torre, è tempo che tu riceva il meritato titolo di difensore del regno! Ma prima dovrai superare una prova difficile! Ti senti pronto? Sì, padre! Sono pronto ad affrontare la sfida! I glaciali sono così snob! Sì, sono pronto! Aaron! Un difensore deve superare le proprie più grandi paure! Quindi dovrai trovare il coraggio per attraversare... il ponte di ghiaccio! Attraversa il ponte senza cadere! Equilibrio, coordinazione! Posso farcela! Non sarà soltanto una questione di prestazione fisica! Verrà messa alla prova la tua fiducia negli altri! Oh oh! Chiudi gli occhi, Ikor! Sarà uno dei tuoi fedeli compagni a guidarti! Aaron, tu sarai gli occhi di Ikor! Dici a me? Sì! Tranquillo, Ikoko! Ma... padre! Chiudi gli occhi! Abbi fiducia, figliolo! Ok, bene, si comincia! Piede destro avanti! Sei forte, amico! Così, continua! Continua! Basta! Fermo! Perfetto! Ora va verso destra! No, volevo dire sinistra! Vai alla grande! Cioè a sinistra! Vai forte! Tutto questo è ridicolo! Continua così! Ci sei quasi! Ora fa attenzione! Perché... Aaron, che cosa hai fatto? Non sono stato io! Oh sì! Non sono stato io, vero? Il castello è sotto attacco! Gormiti! Potenza degli elementi! Furia del vento! Forza della roccia! Potere del ghiaccio! Energia del fuoco! Combatti l'ordo dei gormiti del ghiaccio! Tra i ghiaccio! Tra i ghiaccio! Un attacco alla mia fortezza di ghiaccio! Ciò non può essere tollerato! Questa gigante chi è? Fuori dai piedi! Vogliamo sparare ai gormiani! Vi sperdetevi, invasori! Raggiopolare! Padre! Sto bene, figlio mio! Sei stato saggio a fidarti del tuo amico! Visto? Allora che si fa adesso? Si ricomincia la prova? Ikora ha già dimostrato di sapersi affidare agli altri! Ikora! Ti dichiaro degno del titolo di difensore dei regni di ghiaccio! Davvero, davvero snob? Cosa hai detto, scusa? Ho detto... Sì! Evviva Ikor! Difensore del ghiaccio! Viva Ikor! Viva Ikor! Sì! Viva Ikor! Viva Ikor! Viva Ikoruk! Viva Ikoruk! Viva Ikoruk! Grazie a tutti.